E' stata ammessa anche quella di Ethan Torchio, batterista Star Day Maneskin, il gruppo rock che spopola in tutto il mondo, tra le richieste di testimonianza nel processo ad Alessandro Cappiello, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 22 anni, vicenda che vede coinvolti anche il calciatore del Genoa Manolo Portanova e lo zio Alessio Langella. Durante la prima fase del dibattimento era stata depositata davanti al gruppo una conversazione tra la giovane ed il musicista. Mi dispiace tantissimo che sia stato tirato in ballo, aveva detto la ragazza alla Nazione nel giugno scorso, lui non c'entra niente, siamo rimasti in buonissimi rapporti. Anche di fronte a questa vicenda si è rivelato un signore, altri avrebbero reagito molto male. Portanova e Langella sono stati condannati il 6 dicembre scorso. Quella notte, in quell'appartamento vicino a Piazza del Campo, c'era anche Alessandro Cappiello. La ragazza ha sempre detto di essere entrata all'interno di quella stanza per appartarsi solo con Portanova, per poi denunciare di aver subito violenza da tutto il gruppo. La studentessa non dovrà essere sentita di nuovo in questa fase del procedimento, dato che si è già tenuto un incidente probatorio che ha cristallizzato il suo racconto. Il processo si svolgerà a porte chiuse, come richiesto dall'Associazione Donna Chiama Donna.